Mimma e Giulia Caloiero, responsabili dell'associazione Stella Nedeb di Francesca Caloiero. Siamo qui a Soveria per il convegno estetica oncologica. Sì, anche noi come l'associazione Stella Nedeb, nata proprio con lo scopo di favorire la qualità di vita delle pazienti con problemi oncologici, abbiamo aderito a questa giornata perché crediamo fermamente che possa essere di aiuto per le donne con problemi oncologici. Sì, allora io infatti sono qui in doppia veste come parrucchiera e come appunto soggia fondatrice insieme a Mimma e il resto della nostra famiglia dell'associazione Stella Nedeb. L'associazione nasce subito dopo la morte di nostra sorella per, diciamo, attraverso la raccolta fondi aiutare poi le famiglie, le persone che devono sostenere diverse difficoltà, insomma, per le malattie oncologiche. Organizziamo eventi, partecipiamo a varie cose e appunto per poi aiutare, promuovere delle giornate di prevenzione oppure nell'acquisto di strumentazioni magari per delle strutture medico-oncologiche o insomma altri tipi di sostegno che riusciamo a dare. Grazie 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 Grazie